Benvenuto a questo cazzo video, comunque sbanchiamo Napoli, vinciamo 3 a 1 che con 3 scivoloni è crollata ma vinciamo, si cazzo vinciamo 3 a 1, una partita fondamentale che era da vincere assolutamente, se no si rischiava al primo posto però in Napoli ha detto per mezz'ora, 20 minuti poi se la giochi chiama ma è crollata a Napoli vinci da ottobre in campionato a sprofondare la crisi totale però le occasioni abbiamo avuto pure per rimpinguare il risultato ma quando sbagli sbagli alla fine crei crei le occasioni vennero divorate però siamo sempre saliti al primo posto, ora ho il sacazzo Europa League che continua a giocare dobbiamo ottenere risultati assolutamente perché se no in campionato vabbè ma se perdiamo gramosamente poi cominciano a nervosirsi a parte poi il mercato si ci pensa non tanto prima bisogna cosa poi anche a tutte quante cercare di vincere tutte le partite comunque iscrivetevi al canale per pensare iscrivetevi al canale io ho ambrosio vi Grazie.